La partecipazione anche di quest'anno è stata di grande interesse, la Tunisia sta crescendo notevolmente, le nostre imprese sono molto soddisfatte e molte imprese, piccole e medie, italiane in particolare, ci stanno chiedendo più notizie perché pensano di riprendere gli investimenti in Tunisia. Investire in Tunisia vuol dire avere la possibilità di essere vicinissimi all'Europa e di lavorare sull'area del Nord Africa e del Vicino Oriente tramite la Tunisia su tutta l'Africa, quindi è una base regionale estremamente importante e vicina a tutti i mercati da raggiungere.